yogurt, cereali arricchiti di vitamine, succhi di frutta, bibite dolcificate e sì, anche il miele. Tutti alimenti che potrebbero essere meno salutari di quanto pensi o quantomeno da consumare con maggior consapevolezza. Ma è importante una premessa, ci sono alcuni cibi che non sono sani a prescindere, come le bibite dolci, altri che richiedono semplicemente qualche cautela per la percezione e l'uso che ne facciamo, come il miele. È una distinzione, sottile, ma sostanziale, una differenza che può e deve guidarti nelle scelte quotidiane, ricordando che comunque non esistono alimenti vietati in assoluto, ma solo alimenti da moderare e qualcuno da limitare a occasioni speciali, senza dimenticare la variabilità individuale. Oggi video leggero, dedicato a quegli alimenti che sembrano salubri, ma che potrebbero nascondere delle insidie e in alcuni casi si tratta di veri e propri lupi travestiti da agnelli. Preparati a guardare oltre il packaging accattivante, oltre all'apparenza di elemento naturale, per scoprire cosa si nasconde realmente dietro l'immagine che ci viene venduta. Ecco allora un elenco senza un ordine preciso e soprattutto senza pretesa di esaustività, ma costruito allo scopo di aiutarti soprattutto ad acquisire più consapevolezza. Partiamo con il... Votto. Bere un succo di frutta non equivale a mangiare della frutta, soprattutto quando dovessero esserci zuccheri aggiunti e sì, il succo d'uvo di mela concentrato è anche lui uno zucchero aggiunto. Ora, so che mi odierai per quello che sto per dire, ma anche estratti e centrifughe fatti in casa con la frutta sono davvero poco più che acqua e zucchero. Ma come sempre accade in alimentazione, in nutrizione, nessuna di queste bevande è vietata in assoluto, ma ci sono opzioni migliori. Il frullato di frutta fresca, ad esempio, che ti permette di consumare l'intero frutto è per esempio molto meglio. È vero, perdi comunque il senso di sazietà legato alla masticazione, ma dal punto di vista nutrizionale l'apporto è comunque preservato. E comunque, se ti piacciono estratti e centrifughe, una buona soluzione potrebbe essere quella di introdurre anche verdura. Ce ne sono alcune come carote e cetrioli che si prestano piuttosto bene, in modo da abbattere l'apporto al zuccherino della bevanda. Mi sono appena fatto odiare dai vegani, devo compensare. La bresaola non è una scelta così sana come pensi. La prossima volta che decidi di comprarne due chili perché si tratta di proteine e magre che fanno bene. Allora, gli dia tre eti di fettine da fare panate. Mi raccomando, tre eti, perché il signor Tonino è un furbacchione. Cerca sempre di appioparti qualche grammo in più. Ecco, mi ha assicurato che questa fettina si può fare panate. Prova a dare un'occhiata all'etichetta. Vedrai probabilmente non solo nitrite e nitrati, conservanti ritenuti cancerogeni, non solo quantità orripilanti di sale che in una singola porzione sostanzialmente coprono l'intera tua quota giornaliera, ma vedrai anche altri ingredienti di vario genere che la trasformano in un alimento ultraprocessato, oltre a essere di per sé carne rossa processata. Lo so, lo so che le gallette di riso ti sembrano uno snack salutare, oltre che buono, ma purtroppo nascondono più di qualche insidia. Anche se prodotte con riso integrale, ma confessa, tu acquisti quelle con riso bianco, altro che integrale, hanno comunque un apporto calorico importante, una stimolazione di glicemia e insulina tutt'altro che trascurabile, poca fibra e ci sono poi diversi dubbi su aspetti ancora più delicati, per quanto ancora dibattuti. Insomma, c'è probabilmente di meglio. Come il sushi! Oppure no? Beh, dipende da come viene preparato. Bene, anzi benissimo per il pesce, il pesce crudo mantiene inalterate tutte le sue caratteristiche nutrizionali, ma ci sono alcuni aspetti da tenere a mente se mangi troppo spesso sushi. Il riso sarebbe preferibile che fosse venere, perché è integrale. Attenzione a optare per locali e piatti in cui il rapporto tra riso e pesce non pende eccessivamente a favore del primo. Attenzione a non esagerare con la salsa di soia davvero troppo salata e attenzione alla sala aggiunta in genere. Attenzione a tutto ciò che è fritto, saltato in padella, perché difficilmente si usa olio extravergine di oliva e quindi, nonostante il contributo del pesce, il rischio di eccedere con gli omega 6 è davvero concreto. E poi ovviamente, attenzione alle quantità, anche il miglior sushi del mondo con riso integrale, salmone selvatico del mare del nord, ti farà male se ne mangi sistematicamente troppo, invogliata dalle formule olio-quanit, ma questo è un altro discorso. Parliamo invece di gusto dolce, perché purtroppo tutti i dolcificanti naturali, sciroppo d'agave, miele, sciroppo d'acero, devono essere trattati come zucchero, né più né meno. L'apporto di micronutrienti come vitamine e sali minerali per caloria non è purtroppo mai significativo e i carboidrati semplici contenuti nella maggior parte dei casi non sono né migliori né peggiori di quelli dello zucchero da cucina. Di nuovo, non significa affatto che siano vietati, e penso soprattutto al miele, ma semplicemente penso che tu debba tenerne conto della tua pianificazione giornaliera, senza immaginarli come alimenti sani semplicemente perché naturali. Anzi, per certi versi alcune alternative come lo sciroppo d'agave sono forse anche peggio dello zucchero, perché eccessivamente ricche di fruttosio, mentre ad esempio il miele è decisamente più equilibrato in termini di composizione. E no, il fruttosio nella frutta consumata intera invece non è un problema, sia chiaro, anzi, ma serve un po' di cautela invece con la frutta secca, non intendonoci simili, ma proprio la frutta essiccata o disidratata che dir si voglia, come mele, arance e simili. Ora, tralasciamo le ovvie considerazioni su eventuali aggiunte di zucchero. Anche qualora questo non fosse presente, ci troveremmo comunque di fronte ad alimenti in cui è conservato il contenuto di fibra e in gran parte anche di vitamine. Ma è esploso l'apporto calorico a parità di peso, perché se 100 grammi di mela fresca apportano diciamo 50-60 calorie per 100 grammi, quando vengono disidratate le stesse miele ti apportano più di 350 calorie per 100 grammi. A questo punto potresti pensare che la soluzione siano i dolcificanti artificiali, no? Zero calorie, quindi innocui! Purtroppo anche in questo caso c'è più di una preoccupazione in merito. Senza entrare nel dettaglio delle singole sostanze, ci sono due, forse tre, aspetti che possono aiutarti a comprendere i limiti di questo approccio e spiegare perché anche l'OMS ne sconsiglia l'utilizzo a seguito di una scrupolosa e approfondita meta-analisi sugli studi pubblicati finora. Con buona probabilità non solo non offrono alcun beneficio a lungo termine in quanto a perdita di peso, ma i risultati della revisione sistematica suggeriscono anzi che potrebbero esserci potenziali effetti indesiderati derivanti dall'uso a lungo termine, come un aumento del rischio di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari. È vero, non è proprio chiarissimo il perché questo succeda, ma tra le ipotesi fatte si annoverano. La dissonanza che si verifica nel tuo corpo quando consumi alimenti dolcificati, ovvero la sensazione di gusto dolce senza però l'introduzione di calorie, che manda un pompa al tuo cervello e che potrebbe in qualche modo confondere l'organismo. Il persistente consumo del gusto dolce che aumenta l'asticella delle tue aspettative organolettiche. Il senso di liberi tutti che potrebbe darti il consumo di bibite dolcificate, se ad esempio insieme all'hamburger ordini una coca zero, beh sei stata brava no? E quindi un dolcetto alla fine ci sta ancora? A nord del vero può essere che il legame invece sia anche opposto, ovvero che non sia il consumo di dolcificanti a causare un aumento dei rischi, ma al contrario che siano i soggetti con preesistenti fattori di rischio a farne maggiore utilizzo. Ma guarda, tanto per non sbagliare io li limiterei all'essenziale. Rimaniamo in tema di dolci, perché i cereali per la prima colazione, anche quando sono arricchiti con vitamine e minerali, rimangono nutrizionalmente raccapriccianti. Praticamente come mangiare cucchiaiate di zucchero con una spruzzata di vitamine. Oh, non fraintendermi, ci sono sicuramente eccezioni, ma sono da cercare con il lanternino. Inoltre il solito atleta agonista potrebbe addirittura necessitare di un apporto di zuccheri semplici, però ammettiamolo, il tuo caso probabilmente diverso. Quando gli acquisti, quindi, assicurati che contengano solo pochi ingredienti, sani e comprensibili, rigorosamente integrali e avranno già tutte le vitamine necessarie senza bisogno di aggiungerle in fase di preparazione. Idealmente dovrebbero avere un rapporto tra carboidrati e fibra contenuta inferiore a 10, ma più è basso e meglio è. La stessa identica considerazione vale per qualsiasi cibo industriale che esalti il contenuto di vitamine presenti. Controlla sempre la lista degli ingredienti perché spesso sono specchietti per allodole. E tu non vorrei mica essere trattata come una lodola, no? Lo yogurt è un alimento eccellente, ma il 90% di quello che trovi negli scaffali dei supermercati non è yogurt. E zucchero con aggiunto un po' di yogurt. Ti consiglio caldamente di includere in pianta stabile un consumo quotidiano di yogurt, di soia se sei vegano o semplicemente alternandoli, ma possibilmente evita quelli con zuccheri aggiunti. L'elenco degli ingredienti deve essere in questo caso cortissimo, qualcosa del tipo latte, fermenti lattici e basta. E' meglio se è latte fieno. Ovviamente non c'è nulla di male a concedersi occasionalmente e consapevolmente una coccola con qualcosa di più dolce. Vorrai o no far l'amore con il sapore? Ma a quel punto dovrai trattarlo appunto come un dolce, non più come uno yogurt. E per la cronaca il frozen yogurt è buonissimo, ma di nuovo non è yogurt, è un dolce allo yogurt e come tale va trattato. A proposito di yogurt, e se lo consumassimo low fat? Personalmente suggerisco quello intero se c'è la possibilità di incastrarlo bene nella tua alimentazione, ma oggi mi preme di più farti notare che tutte le volte che leggi sulla confezione. Low fat, basso contenuto di grassi, low carb, low vattela pesca e compagnia cantante, drizza le antenne, perché spesso c'è la fregatura sotto. Ad esempio in molti yogurt low fat, ovvero senza grassi, c'è una palata di zuccheri, mentre in alimenti low carb, ovvero quelli prodotti con pochi carboidrati, potrebbe esserci una palata di grassi e tipicamente non di buona qualità. A seconda dei casi potrebbe essere una scelta più o meno appropriata per qualcuno, per esigenze specifiche, ma tu impara a leggere le etichette e valuta solo dopo averlo fatto, perché è vero che a pensare male si fa peccato, ma tante volte ci si azzecca. La lista degli ingredienti, credimi, è tua amica. Considerazioni simili valgono anche per gli alimenti proteici, tanto di moda oggi, ma nella migliore delle ipotesi sostanzialmente inutili per la maggior parte delle persone. Aiden con patate per i prodotti gluten free. Ora, premesso che c'è davvero solo una minoranza della popolazione che necessita di mangiare senza glutine, ed è quindi molto probabile che tu non sia fra questi, il consumo di alimenti senza glutine pone anche qualche rischio, tra cui la possibilità che il produttore, per compensare l'assenza del glutine e delle sue proprietà tecnologiche, debba abbondare e cedere con grassi, zuccheri e additivi vari per ottenere gusto e palatabilità adeguate. Secondo rischio. Concentrarsi solo su alimenti senza glutine, senza l'aiuto di un nutrizionista, potrebbe sportare rischio di carenze o comunque squilibri nell'alimentazione. E quindi occhio. Non so se l'hai notato anche tu, ma negli ultimi mesi c'è una vera esplosione di veggie burger negli scaffali del supermercato, è un burger vegetale, complice la condivisibile pressione verso il passaggio a un'alimentazione più vegetale, che io stesso caldeggio. Il problema è che la maggior parte di questi prodotti sono purtroppo ultraprocessati, con una lista infinita di ingredienti, troppo sale e troppi additivi. Cercando un pochino, con l'aiuto delle solite etichette, qualcosa si trova, ma nel complesso ti invito comunque a non esagerare. Molto, molto meglio prepararseli in casa, così da poter scegliere ingredienti e dosi. E se pensi che un hamburger di carne sia meglio, credimi, tu non vuoi vedere come vengono preparati e quale carne viene usata. Restando nell'ambito delle alternative vegetali, sostituire anche solo ogni tanto il latte con bevande vegetali può essere un'ottima idea, sempre nell'ottica di una più ampia rotazione possibile degli ingredienti della tua dieta. Attenzione però, anche in questo caso dovresti privilegiare prodotti con una lista di ingredienti estremamente corta e, soprattutto, priva di zuccheri di additivi che non riconosci. Ma ti ribadisco quanto detto più volte, se vuoi concederti una carezza all'anima con una bevanda zuccherata, penso ad esempio ad alcuni latti di mandorla davvero buoni, non è vietato, ma tieni ne conto per non alterare l'equilibrio complessivo giornaliero della tua dieta. E lo so che ti dico di mangiare vegetale e che nella preparazione di un curry di verdura il latte di cocco è la morte sua. Ma purtroppo latte di cocco e olio di cocco, nonostante derivino da una pianta, hanno un contenuto di grassi tutt'altro che ottimale, perché è troppo sbilanciato verso i grassi saturi e per questo associato a rischi cardiovascolari. Guarda, è un po' come il burro, non è che tu non posso non devo usarlo, ma richiede consapevolezza e soprattutto moderazione. Come avrai capito potremmo continuare per ore, parlando del sale aggiunto all'arachidi, delle bibite energetiche o di quelle per sportivi, ma quello che spero è di averti fornito gli strumenti per giudicare, per proseguire tu stessa, ricordando che non esistono alimenti vietati in assoluto, ma solo alimenti da moderare e qualcuno, beh sì, qualcuno da limitare a occasioni speciali. Parafrasando chi ne sa davvero più di me, se diventi padrona dei concetti non sarai più schiava dell'incessante bombardamento di informazioni, contraddittorie talvolta, cui siamo quotidianamente sottoposti tutti quanti. E allora sai che ti dico? Ti dico grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Nel mio piccolo rimango a disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive, ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista. Grazie ancora, ciao!